E' stato accultato qualcuno Stai bene zì? Bene ragazzi sono anime bentornati Questa è un momento degli sfideri basta più nigga mi vuoi? vai vai dai zwegga quindi siamo qua nel secondo episodio con Alice anche se non sarà la seconda sfida perché magari non avete visto altre oppure non lo so siamo qua nella seconda sfida con Alice dove dovremo bere una bottiglietta d'acqua gacciata con 5 cicche 5 gomme come le chiamano loro oppure come le chiamate voi insomma alla menta potentissime 5 da mettere in bocca più cattivi cattivi siamo in ambito sfida già l'altra volta hai perso eh io passo io no chi ha perso? vince chi finirà prima la bottiglietta d'acqua gelata praticamente ci sarà un'esplosione glaciale probabilmente mi uscirà Sid dal sedere oppure non lo so i stalattiti dalle orecchie dalla bocca mi escono le zanne di trichiechi a te cosa usciranno da dietro perché da dietro? ti devi per forza scegli qualcosa da dietro? io non lo so una storia interessantissima grazie Alice per il tuo intervento prego restiamoci subito il nostro big prodotto 5 si 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 per un barale come si vedono 5 voglio vedere pigliola verde o pigliola verde? verde è una scelta per spiegarci vai ma a me fa una scelta con tiro vedete perché sono troppo forti per il mio organismo aspetta con fortissime oddio mica sento già sento già i pinguini che stanno facendo la tan in gora no 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 io parlo di pinguini e parlo di orsi basta parlare di cose grosse solo respirarmi mi riporta al polo nord trova dal naso sei pronta a perdere? non so neanche perderò perde la va per terra la settimana vincia scopa per terra la sfida parte da quando apriamo la non aprirla ok non aperto parte quando apriamo la bottiglia 3 2 mi fai dire no è tipo come bere la granita gelata tutto è tipo veloce ti fai in stand by il cervello oddio vuoi vedere? cazzo via avanti ah 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 no no barona ah tu sei il primo ma cosa si sta venendo? no non è vero guarda ah dove? ah ah mi è scappato ho ammolato un urlo e per sbaglio il movimento del braccio io sono raffando le piante non è il momento adatto ah è stato contenuto qualcuno tutto bene zi mnchia ah Non puoi essere già lì Con il peperoncino non senti un cazzo Con l'acqua gelata non senti un cazzo Che trucchi usi? Eh non lo so Perché tu sei scarso io no Ah questi bug Guarda Vabbè fermiamoci un secondo Ragioniamo Un secondo No che po' sta Oh viso No Congelata No 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 basta Che cazzo E' come che ti metti Basta Che cazzo viene creato Io non so E io Bisogna ammettere quando una persona perde No ragazzi Ammetti la sconfitta Bene ragazzi Apri la bocca Apri la bocca No 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 apri la bocca Un attimo Mario No 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 è possibile Cosa? Sto masticando No Cosa? Hai buttato qualcosa? No no non ho buttato niente La spagna l'hai buttata giù No non è vero L'hai buttato giù però l'hai buttata L'hai buttata l'acqua Non credetci è una villana Come se sei grabito in una villa Non ti inciambi da sola Che c'è la struzza Se volete un'altra sfida Quintina mi piace Qua sotto E lei si squoglia Cioè si squoglierà Togliendosi la pelle intendo Vedendosi la carne Allora squoglierà Squoglierà è squagliarsi La squoglierà Ma vai a scuola No l'altra Vai a scuola 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 Ah ti mergi Impari italiano Aia Lampul Tu hai Stai angri Stai animos No 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 Sparriamone Peku 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 Barando Simpara Peku 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 Peku